Ehi yo, ciao a tutti i popolo di youtube, bentornati in questo nuovo video, se siete su JumJumTV, io sono JumJum, welcome guys, ho deciso oggi di portarvi due video, due video reaction, e questo è il secondo dell'aggiornata, il pezzo di cui andrò a fare la reaction e DNA, e vi avevo detto che avrei fatto altre reaction su questo album, il pezzo in questione è Fast Food, prima però di sapere cosa ne penso di questo pezzo e di fare questa reaction vi chiedo un'iscrizione, un like, un commento, una condivisione, e attivate la campanella per essere sempre aggiornati su quello che porto, e grazie a tutti che mi supportate wow, sempre il tipico sound di Gali wow, yeah, dammi le parole e ci farò il flow mamma mia, una mina, quando il rap è una mina, abbassarne dei livelli fa male la schiena minchia, brutta, mio padre non lo vedo manco su una foto wow, guarda, guarda, mi trasporta, non so, guarda, a me mi trasporta, gali, in certe canzoni non mi piace, in certe mi trasporta oh, yes yo, oh my god tutti i crediti, prenditi tutti i meriti wow, questa si balla, ragazzi wow eh, nessun tieni, tieni, tutti i dammi, dammi ti sei girato e sei sparito, gli amici che se ne vanno poi tornamo quando vogliono i soldi wow fica, fica, wow mamma mia mamma mia, una delle più belle dell'album secondo me l'ho sentito un po' l'album velocemente, questa è una delle più belle proprio fugacemente ieri sera partiamo dal beat beat che tipicamente diciamo di gali tipicamente del suo inizio come trapper ora si è un po' spostato fa un po' di tutto molti lo molti lo definiscono pop io non so manco come definirlo io lo definisco artista, ragazzoli perché comunque è quello che raga, io vado a leggermi il testo perché gali è uno di quelli artisti che non puoi liquidarti così che devi per forza andarti a leggere il testo perché può essere molto più complesso di quello che di quello che si percepisce in un primo ascolto raga, è fondamentale ehi, dammi il tuo cuore ci farò un falò dammi una pistola io la appoggerò dammi le parole ci farò il flò e lui non ha bisogno di dammi le parole lui potrebbe scrivere anche se penso che non lo so potrebbe ormai quando un artista anche un rapper diventa forte diventa sotto una measure anche i parolieri che scrivono per lui o lo aiutano a scrivere però lui dice dammi le parole e ci farò il flò scrivimi qualcosa e ci metto il mio flò e lui è una grande tecnica un grande flò ragazzoli non c'è un cazzo da fare Dio dammi l'umiltà quando sarò al top questa è una bella frase questa è una bella frase non l'avevo percepita avevo percepito tutte le altre questa voglio essere umile lui crede in Dio lui crede in Dio nel senso che poi si chiami Buddha Allah o Pasquale Ignazio crede in Dio crede nella entità ma penso che lui sia proprio fermamente della sua religione credo la mia preghiera la mia preghiera quando scende sera e quando la folla mi acclama non so più com'era non so se pippero la mia carriera tipo vuol dire sarà veloce nel senso sarà qualcosa di veloce di pochi anni o se passerà veloce non lo so però penso che quando si usa una frase così dice non so se sarà un tutto un qualcosa di veloce e poi finirà tutto non lo so se ostenterò la mia catena qua secondo me un pochettino un discorso che secondo me potrebbe essere frecciatina ai trapper che dicono sempre di avere gioielli catene o può essere perché comunque nel vecchio nell'underground nel negli anni passati i rapper quelli che vengono veramente dalla strada si diceva si diceva è una digitura è una digeria che passa da anni in anni che quando perdevi la catena perdevi le palle almeno si vede anche in dei film fanno tanti riferimenti alle catene quindi non so o forse sono tutte e due i riferimenti messi insieme però questa è una cosa che non è inventata leggetevela andatevelo a trovare questa è la catena del valore della catena per le persone comunque del vietto le mie amicizie che si scrivono come la scena infami che mi scambierebbero per una cena cioè vuol dire cazzo è un riferimento un po' biblico nel senso sembra un po' col discorso di giuda odio la guerra lui lo dice sempre fratello ma anche chi non si schiera vuol dire io odio la guerra però bisogna schierarsi nella vita la fame mi ha portato ad essere famoso vuol dire ho fame ho bisogno di essere famoso un po' tutti quando hanno fame hanno una potenza maggiore più ha fame più ha potenza c'è un cazzo da fare ragazzuoli chi è più povero e ha le palle non si butta giù può creare tanto può creare un impero mio padre non lo vedo ma ha chiesto una foto bellissimo lui ha sempre questo rapporto ovviamente conflittuale col padre parla sempre del rapporto con sua madre con suo padre non il rapporto con il padre perché quanto pare sto dizio non ho capito se è in carcere o se l'hanno rilasciato o se è stato in carcere comunque sembra di sì non lo so però non si parlano o si parlano poco non l'ho mai capito esattamente la mia storia è triste ma mi ha reso uomo non mischio non mi mischio non mi mischio con gli scarsi stanno tra di loro pesante ma bello lui ha sempre detto sta cosa del non mischiarsi con l'uno con l'altro e stavolta usa la cosa non mi mischio con gli scarsi stanno tra di loro avrà avuto in segreto qualche biff perché lui non fa trapelare tutte queste cose delle volte escono nelle stories come tutti i rapper ma lui non fa tanto trapelare almeno io non seguo tanto il fattore social e quello che seguo da quello che ho visto lui è molto tranquillo cresciuti veloci dentro un fast food tra un'ora e un grosso grosso rende vu e mamma no non piange più perché sono mamma nel senso ne hanno passate lì cotto e di crudo lui è molto attaccato alla madre sono innocue ora le luci blu vuol dire le luci blu la polizia sarà no nel senso prima andavano a romperle le palle magari sai soprattutto perché sei straniero o sei di origine straniera ora magari no perché è famoso e magari lui dice che delinco a fare sto facendo i soldi se devo se devo farlo devo farlo prima ma non penso che lui sia stato mai un delinquente non lo so non lo so e non guardo più il prezzo sul menu questo mi è piaciuto appena l'ho sentito per dire la mia vita è svoltata non devo stare attento ai soldi certo non devo strafare perché poi magari posso andare in bancarotta però guardare un menu posso permettermelo posso stare la dire non guardo ogni canzone di Gaglia almeno fino ad ora quelle che ho ascoltato sono tutti di grandi viaggioni ragazzuoli non c'è bisogno che ritorno a ripetervi il discorso perché ho fatto l'analisi del testo leggendolo quindi boh fino ad ora raga non ovviamente non c'è il video quindi non devo aspettare il video magari farò soltanto se me lo richiedete qua sotto in tanti magari porterò anche l'analisi del video soltanto parlando soltanto del video se uscirà di queste canzoni di cui ho fatto già la reaction raga io sono arrivato alla fine del video cazzo quanto sono stanco oggi ho portato due ho portato due reaction ma lo sto facendo per voi lo sto facendo per voi per farvi conoscere il mio pensiero per dire guardate c'è un punto di vista diverso rispetto a tutti gli altri che portano reaction che portano dei format similari al mio come vedete non sto cercando di copiare nessuno sto cercando di essere me stesso di portare me stesso da Jump Jump è tutto noi ci vediamo alla prossima grazie